Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial sul Tableau. Oggi parleremo di trendline, linee di tendenza. Utilizziamo il file sample superstore Europa, la tabella ordini, e andiamo a vedere che cosa sono e come funzionano le linee di tendenza. Le trendline di solito vengono utilizzate insieme a dei grafici a dispersione per cercare di capire se esiste una correlazione tra due variabili. Proviamo ad esempio a inserire due misure nel nostro grafico, ad esempio il profitto e lo sconto. Vogliamo vedere l'andamento di queste due misure in base allo stato. Vediamo che i nostri punti all'interno del grafico a dispersione sono abbastanza dispersi. Non sembrano avere un andamento lineare. Se io provassi a mettere nel grafico il profitto e vedere l'andamento del profitto rispetto al profitto, questo è il caso di una correlazione lineare perfetta, ovviamente sto guardando la stessa misura confrontata con se stessa, vedete che l'andamento di questa, l'andamento dello sconto sono alquanto differenti. Lo sconto ha un andamento molto più sparpagliato e in effetti è una cosa che anche così idealmente ci sta. non è assolutissimamente detto che il profitto aumenti se diminuisce lo sconto, se lo sconto aumenta. Potrebbero essere due variabili che non hanno molto a che fare una con l'altra. Proviamo adesso invece a mettere due variabili che così idealmente potrebbero dipendere una dall'altra. ad esempio la quantità e le vendite e vediamo che sembrano avere un andamento molto più lineare rispetto alle due variabili viste prima. Questo perché più cose vendo più il valore della mia vendita sarà alta. Idealmente, concettualmente è un concetto che ha una sua logica. Se apriamo il pannello Analytic vediamo che tra tutte le opzioni che abbiamo c'è anche la trendline. Possiamo trascinarla all'interno del grafico. Ci verrà chiesto quale tipo di trendline vogliamo inserire. Adesso inseriamo quella lineare e vediamo che ci viene disegnata una riga che ci aiuta a capire se esiste un trend tra i dati. Se prendiamo una dimensione e la aggiungiamo nelle righe ad esempio la regione ci verrà splittato il grafico nelle tre regioni presenti nel nostro database e verrà calcolata una trendline per ogni regione differente. Se la regione la mettiamo in colore vediamo che ci verranno create tre trendline di tre colori differenti uno per ogni regione. Possiamo cliccare con il tasto sinistro sulla trendline cliccare su edit e aprire il pannello delle opzioni. In questo pannello possiamo prima di tutto scegliere che tipo di trendline vogliamo farci calcolare e inserire nel grafico. Logarittimica lineare esponenziale polinomiale dipende da che tipo di studio stiamo facendo. Possiamo anche decidere se vogliamo avere una linea per ogni colore o se avere una singola linea invece che tiene in considerazione tutti i dati e poi possiamo anche decidere se visualizzare le bande di confidenza queste due righe più esterne e anche se forzare il fatto che la trendline parta da zero. possiamo anche decidere se farci ricalcolare la trendline ogni volta che selezioniamo qualche marca all'interno del grafico oppure no. In questo momento è selezionato quindi se io ad esempio scegliessi solo questi pallini qui mi verrebbe ricalcolata una nuova trendline lasciandomi comunque la possibilità di vedere in colore un pochino più sbiadito quello originale. Quando si parla di trendline siamo proprio in ambito statistico bisogna fare riferimento a due valori che sono scritti nel tooltip della trendline stessa che sono il p-value e l'r-quadro possiamo cliccare con il tasto destro e scegliere describe trend model quindi farci descrivere come è stato creato il modello e di tutti questi valori quelli su cui dobbiamo focalizzare a nostra attenzione sono il p-value e l'r-quadro il p-value è l'indice di significatività ed è un valore numerico che viene attribuito ai valori dei nostri dati che solitamente se è minore di una certa soglia che diciamo per convenzione stabilita sullo 0,05 allora vuol dire che il risultato che stiamo vedendo è significativo quindi effettivamente c'è una correlazione tra le due variabili e l'andamento lineare in questo caso crescente non è solo dato dal caso ma effettivamente una variabile dipende dall'altra il p-value può avere un valore che va dallo 0 a 1 tanto più sarà vicino allo 0 tanto maggiore sarà la significatività tanto più sarà vicino a 1 tanto minore sarà la significatività un altro indice che dobbiamo guardare quando si parla di trendline è l'r-quadro che ci dice se il modello che stiamo utilizzando effettivamente si adatta bene ai nostri dati oppure no anche l'r-quadro ha un valore che può andare da 0 a 1 il nostro esempio l'r-quadro è di 0,99 contrario del p-value tanto più si avvicina a 1 tanto migliore sarà il modello tanto più si avvicina allo 0 tanto peggiore sarà il modello quindi in teoria guardando questi due valori potremmo dire che esiste una correlazione tra la quantità venduta e le vendite però diciamo che questo non basta per essere non sempre le trendline bastano per essere sicuri che il modello che stiamo utilizzando sia valido soprattutto quando l'r-quadro è molto molto elevato ad esempio in questo caso abbiamo 0,99 è molto elevato quindi converrà fare un'altra analisi sui dati residui possiamo cliccare su worksheet esportare i nostri dati l'unico formato che possiamo scegliere sarà access chiamerò il file residui il nome della tabella mi va bene che si chiami data e flaggiamo questa casellina per farci aprire direttamente in tableau il file di access dopo che sarà stato importato creiamo un nuovo foglio mettiamo la quantità nelle colonne e il nostro residuo nelle righe mettiamo di nuovo il country lo stato nei dettagli un buon modello solitamente a tutti i pallini che si concentrano intorno allo zero guardando l'asse orizzontale quasi tutti i punti dovrebbero essere tutti qui vicino allo zero e man mano che ci si sposta dovrebbero essere sempre più radi quindi guardando questo modello sembrerebbe effettivamente esserci una correlazione sembrerebbe effettivamente esserci una correlazione tra la la quantità venduta e il valore delle nostre vendite vittà si vittà è così